Buongiorno e benvenuti a TG24. Anche se un po' sotto traccia è stato appena approvato il controverso disegno di legge che interesserà i professionisti in ambito culturale. A partire dall'entrata in vigore della legge tutti gli impiegati dei settori artistici e culturali saranno regolamentati dallo Stato e dovranno iscriversi ad un albo annuale a numero chiuso. Chiunque sarà trovato a praticare al di fuori dell'iscrizione all'albo sarà soggetto a ricorsi legali. Ti hanno curato da una passione. Ti pare giusto? Giusto o sbagliato? A me non serve più. Sei sicuro? Non mi rispondi. Ma che importa? Ora faccio altro. Costruisco il mio futuro. Sembra una recita. Ti senti? Ripeti queste frasi come una macchina. Guarda che sono molto meno confuso di quanto credi. Davvero pensi di rendere felici con le persone? Sì. Penso di sì. Prova a riflettere. Cosa che facevi quando stavi davvero male? Qual era l'antidoto per il buon amore? La musica. Questa è la cura. Le nostre passioni sono l'unica cosa che ci rendono felici. Anche se fosse. È comunque un'attività illegale. Non posso fare più nulla. Un modo c'è. Tu pensa qualcosa che ti renderebbe felice in questo momento. Se non lo trovi... Chiamami. Ah, fra. Credi che ti abbiano curato? Ma era necessario farti buttare le bacchette? Leo, a finire. Ragazzi. Ciao. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti